Diciamoci la verità, uno dei soggetti più disegnati è la rosa. Iniziamo subito. Iniziamo a disegnare l'osteo della rosa. In questo modo disegneremo una rosa leggermente inclinata. Ok, adesso è il momento di iniziare a colorarla. La coloreremo con delle matite colorate. Cambio ancora la tonalità. Mi piace dare tonalità diverse al nostro soggetto. Mi raccomando, per non perdere altri video, seguimi e lascia like.